buonasera buonasera come potevate immaginare il villa naturalmente che c'è stato mercoledì che di solito non c'è figurati se si poi si presenta il venerdì quindi non c'è e pazienza e facciamo così prima di iniziare la puntata ho già visto due robe mentre mi mette una maglietta come mio solito ho già visto due robe nei commenti che vale la pena di rispondere che sono state tirate in ballo non strettamente seriali commenti su then my tale e cose così non ero pronto non c'ho pronto un banner con gli spoiler non ne parliamo nel momento mi viene da dire però che chiara dice quante lacrime con this is us ma dire di quante lacrime condizia c'è la prima scena la devo mettere nei serie al nome perché la prima scena di this is us di questa settimana è una roba abbastanza impressionante anche in tema covid pandemia bello no volevo dire due cose uno è che adesso mi sono già perso di chi diceva una waiting room a ciccio baciccia che diceva una waiting room senza musica è terribile lo dici come se io sapessi come si fa a mettere una musica nella waiting room cioè no tu dici nel senso che dovrei fare un video con quel cartello lì e far partire il video di dieci minuti con sotto una musichetta è vero è vero potrei raccogliere questa questa cosa lo devo solo farlo devo solo farlo potrebbe volerci cinque anni a fare questa cosa e quindi e quindi così e poi c'era un'altra cosa che volevo dire e che invece ora mi sono perso a no chiedevate il podcast c'è ragazzi è il podcast della puntata di dell'altro ieri c'è lo trovate dappertutto come sempre su spotify su apple podcast con il pezzo incriminato tagliato e dovremmo vedere dobbiamo vedere se riusciamo a farne una versione anche video poi da ricaricare su su youtube e su twitch da quel punto no perché non credo si possa più caricare niente su twitch potrei metterla su su youtube esatto ciccio baci c'è una mega sigla di dieci minuti esattamente quello che ci serve e va bene no in realtà barbara dice il village assente non è nemmeno finito il coprifuoco in realtà poi abbiamo scoperto che ancora stima prossima ci sarà ancora tutta settimana il coprifuoco non mi viene da dire viva sicuramente questa eventualità fa sì che anche settimana prossima andiamo a tre a settimana con anche il venerdì io credo perlomeno è così diciamo che il villa è scusato per il fatto che non c'era bene partiamo con questa puntata in cui io come prima cosa direi parlerei un attimo perché ci da un la per partire poi con le nostre cose super simpatiche di quello che è successo una cosa bella che è successo in questa settimana proviamo a condividerla prima condividerla c'è anche già la scritta cioè la reunion di friends ha avuto una data e un teaser che ora cercheremo di vedere insieme se io riesco a fare questo questa questa cosa assolutamente ridicola di portare la cassa qua i potenti mezzi mi venivano meglio quando non usavamo restream però vediamo il come si dice il coso scusate chiaramente se non tolgo le cuffie voi non sentite assolutamente cos'è sta roba cosa ho fatto ma cos'è the green knight ma per cortesia i miei soliti problemi con la tecnologia un momento un momento doveva essere tutto bellissimo ma sei serio youtube perché di solito li fa il villa e mi rendo conto che il villa però c'ha mi rendo conto che il villa ha le cose devo staccare tutto per far sentire questa cosa speriamo che poi rifunzioni grazie 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 Funziono? Vediamo un attimo se funziono Sembrerebbe di sì Sembrerebbe di sì Tutto Meglio che le fa il Villa queste cose qui Perché a me mi si impasta tutto Alla fine l'avete sentito Va bene Non è che si doveva sentire Chissà che D'altronde Però si sentiva la sigletta di Friends Riarrangiata leggermente Allora il 27 di maggio Arriva Negli Stati Uniti Naturalmente La Reunion di Friends Che secondo me Esce su HBO Max Doveva essere all'inizio La chicca di lancio di HBO Max Poi è saltata a causa del Covid E adesso è diventato l'occasione Per fare Diciamo Il primo anniversario di HBO Max La Reunion di Friends potrebbe essere Una Delle più spettacolari Toppate di marketing Della storia della televisione Per un motivo Abbastanza Non lo so Perché Hanno detto quello che dovevano dire Della Reunion di Friends Cioè la cosa importante Che noi dobbiamo sapere È che Non è Un nuovo episodio Cioè Non è una roba narrativa Non ha una sceneggiatura È unscripted Non è scritto Per essere un nuovo episodio Di Friends Quindi non ci saranno Loro che necessariamente Rifanno I personaggi E questa roba qui ce l'han detta Nonostante questo Non posso fare a meno Di notare che In giro Ma in realtà Anche nel mio cuoricino C'è Un'aspettativa Da nuovo episodio di Friends E secondo me Questo si deve al fatto che Ma banalmente Anche questo fatto Di chiamarla Di chiamare la puntata The one Where they get back together Voi sapete che Gli episodi di Friends Si chiamavano tutti The one with The one where The one when Cioè In italiano Quella in cui Quella che Quella con Giallo La chiami così Non so come dire Che quindi fa pensare A un episodio E poi ce la monti In questo modo Con loro Che si vedono Dietro Così è Come avevano fatto Dalle vecchie foto promozionali Insomma L'hype che sta montando Dietro questa roba qui È palesemente legato A una nuova puntata Di Friends Intimamente Anche se tutti Razionalmente Sappiamo che non sarà così E questa roba Secondo me Sarà deleteria Al massimo Al massimo Per questo speciale Per cui alla fine Saremo Cioè Il rischio di essere Delusi è Elevatissimo Perché in realtà Il rischio di essere Loro Che vanno Sulla stesso set Quindi L'avrà ricostruito Ci sarà il divano Ci sarà quello che vuoi Ma c'è Il rischio Che sia Veramente Una roba Tristissima Detto questo Poi però Hanno anche Annunciato Che ci sarà Un po' di gente All'interno Di questo Di questo speciale Tra cui David Beckham Justin Bieber James Corden Cindy Crawford Cara delle Vigne Lady Gaga Keith Harrington Cioè Jon Snow Mindy Kaling Tom Selleck Che insomma È anche gente Che ha fatto Friends Naturalmente Reese Witherspoon Anche lei Che ha fatto Friends Insomma Ci sarà Tanta bella gente Ecco Tanta bella gente E quindi E quindi Speriamo che Boh Boh Naturalmente Ne parleremo C'è anzi L'idea di fare Una specie di processo A questa cosa Per cui Col Villa Già lanciatissimo Con il nostro amico Luca Restivo Che dice Sì sì Facciamo un processo Per dire Quanto siamo delusi E quanto siamo infastiditi Io ho detto Aspetta un momento Perché io voglio vedere Se sono delusi Infastidito E se ci deve essere un processo Io quasi naturalmente Sarò l'avvocato difensore Però detto questo Vabbè Detto questo Vabbè Voi che ci dite Chiara Mentre andava Il trailer O non andava Dice Per fortuna Non era del porno Ma perché Per fortuna Quando si dice Che ho scaricato Sai quando si scaricava No? Si dice Ah volevo scaricare Batman Forever E invece Ho scaricato Un porno Ma non ci si chiede mai Ma era un bel porno? Perché Se era un bel porno Tutto sommato Va bene lo stesso Poi Castelli Dai da mangiare I criciti Dentro il pc No Devo cambiare il pc Questa è una cosa Abbastanza palese Abbastanza palese Speravo che almeno Questa minima cosa Fosse in grado di farla Ma evidentemente no Evidentemente no E pazienza Pazienza Mr. Raiden A proposito di Friend Dice Come dice il famoso meme Di Malcolm in the Middle Non mi aspetto niente Ma sono già deluso Che è tutto sommato Un ottimo modo Di approcciare la vita Paola V Chiede se E Paul Rudd no Purtroppo Paul Rudd In questo momento Non è stato annunciato Che voglio dire Cioè Alla fine Si è sposato Il suo personaggio Mike Si è sposato Phoebe Quindi effettivamente Ci stava Magari non è annunciato Perché viene considerato Già parte della faccenda Per quanto Nell'immagine che abbiamo visto Lui non ci fosse E Kind of Spark Invece ci dice Che James Corden Per carità Sempaticissimo Ma deve essere Raccomandato Al padre italiano Perché ovunque Io non sono nemmeno Così convinto Che sia simpaticissimo James Corden Cioè dopo un po' Mi sfianca Onestamente Ma comunque Questa cosa Di Friends Voleva essere Anche un'introduzione Un'introduzione A che cosa 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 Volete Che facciamo Quando siamo Qua Io e voi E ancora Non si sono inventati Nuovi format E nuove sigle Anche perché ho avuto Una settimana Terrificante Dovuta Al tennis Chiaramente Facciamo un domandone E facciamo un domandone Legato a questa cosa Qui Noi stiamo Per vedere La reunione Di Friends Che non sappiamo Se è un episodio Se non è un episodio Quanto è un episodio Non lo sappiamo E Sì chiara Perché il tennis Ci sono Gli internazionali D'Italia Gli ho mandati in onda Sul 20 Una partita al giorno Ma chiaramente A Roma Piove Ritardano Sono giorni In cui non riesco A respirare A questa cosa qui E oggi stasera Doveva mandare in onda Una partita E ce l'hanno rimandata E vai in onda Domani alle 11 Ma io domani alle 11 Sono in giro Far la spesa Se ne occupano Quelli che sono A Cologno Di certo Non parliamo di me Che gioco a tennis Per cortesia Non diciamo sciocchezza Allora Il domandone Di stasera E naturalmente A fronte di questa cosa qua E mi dite Quali sono Secondo voi Nel vostro gusto Nella vostra storia personale Le serie tv Di cui vorreste Vedere una nuova stagione Questo è il domandone Potevo anche scriverlo Anzi guarda lo scrivo Creerò un banner Che si chiama Si dice Si dirà Quali sono Le serie tv Di cui vorreste Una nuova stagione Guarda com'è tutto in diretta Meraviglioso Naturalmente Serie tv di cui vorreste Una nuova stagione Si intende Sia Serie tv Che magari Non sono finite E questo mi sembra scontato Ma anche roba Che è finita Ma se vi facessero Una nuova stagione Un nuovo episodio Voi direste Ci sto Anche se magari Ogni volta Che vi dicono Che fanno una nuova stagione Qualcosa Dite che palle Con questa storia Di fare le nuove stagioni Delle cose Cosa che diciamo Quasi sempre Io posso dirvi La mia Potevo prepararmela Potevo prepararmela Paradossalmente Non è friends Non è friends Che secondo me è finita E anzi Andarla a toccare È pericoloso Sicuramente Posso dirvi Firefly Che Firefly È stata cancellata Ignominiosamente Senza nessun Motivo Cioè motivo Non andava bene Però se fosse Oggi L'avrebbe Preparata Netflix Avrebbe fatto 18 stagioni Quindi se a un certo punto La rifacessero Detto che Nathan Fillion Beh in realtà Stavo per dire È il doppio Di quando faceva Non è vero Perché poi Eri dimagrito Per fare The Rookie Quindi Bravo Nathan Fillion Che gli si è messo in forma E poteva tornare A fare A fare Firefly E E poi non lo so E poi non lo so Vediamo Vediamo i vostri Chiara dice Pensiamo I momenti più belli Di France Questa la potremmo fare Potremmo lanciare un sondaggio Se l'avete visto tutti Lo possiamo anche fare Magari la facciamo A ridosso Dell'uscita Tra un po' di settimane Don Vincenzo Dexter Te la stanno per fare Quindi diciamo Che sei stato Come dire Già esaudito Perché te la Partirà brevissimo No brevissimo Partire in autunno Ma nel senso È già stata annunciata Largamente la nuova Sezione di Dexter Quindi sei a posto Chiara Mentre io dicevo Ma non ancora sentendo Mi diceva Firefly Anche lei Utopia Utopia Lo dice sia Chiara Sia Sia aliena Sì Utopia Tra l'altro è finita Un po' così Ma devo dire Che Non lo so A me Utopia Mi era sembrata Una di quelle cose Che ti colpiscono Così tanto La prima stagione Che forse poi Non possono Non annacquarsi Non so come dire Quindi non lo so Io ero contento Di aver visto Quello che avevo visto E non mi viene da dire Facciamo una stagione di Utopia Non lo so Barbara chiede Un'altra stagione di 24 E io A me verrebbe da dirti Ancora Ma non sarà troppo Teniamo conto Che 24 Non solo ha avuto le sue Quante ha avuto Otto stagioni Nove stagioni Poi ci hanno fatto i film Poi c'è stata Un'altra stagione Ancora Sempre con Kiefer Sutherland E poi è arrivata La stagione Con quello nuovo E a un certo punto Onestamente Non se ne poteva più Secondo me 24 È proprio finito Il suo tempo È finito il suo tempo Anche di quel tipo Di eroe lì Non c'è più Quell'eroe Cioè noi abbiamo guardato Per anni Jack Bauer Che torturava la gente Senza nessun ritenio Non lo so È cambiata un po' La sensibilità È cambiata Forse non si può più fare E poi la verità Che poi negli esperimenti Che avevamo fatto Era 24 Ma non erano più 24 episodi da ora Era diventato 6 episodi In cui facciamo finta Che c'è comunque Il cronometro Quella cosa di vista Era un po' persa E se ci pensate Oggi Le serie tv Che fanno 24 episodi Sono sempre meno Perché ci sono più pause Perché anche la generalista Si è in qualche modo Adagiata Sui ritmi Un po' Dello streaming C'è stato il covid Non ne parliamo Ma comunque Insomma Non si vedono più Serie tv Con così tanti episodi Chiara dice Luter Sono convinto Che se ci fosse il villa Ti direbbe di no Perché Perché così Insomma Perché Anche lui Sembrava che Fosse un po' Finita la faccenda Erika dice Desperate House Mi è venuto così Ma è giusto Che ti venga così Non lo so Anche Desperate House Ho già dato tanti anni Ho già dato tanti anni E Non lo so C'è da dire Che rispetto ad altre La vedo meno invecchiata Non nel senso Che se la rivedo oggi Non la vedo invecchiata Ma nel senso Che aveva un concept Che comunque Vabbè Erano loro Che facevano stupidate Non è che oggi Non nascono Serie Con quel tono lì E quindi Tutto sommato Potrebbe ancora Potrebbe ancora Esserci Da un certo punto di vista Loro erano anzianotte Già all'epoca Per certi versi Come concetto Sarebbe interessante Sarebbe interessante Forse rivederle Ancora di più Varax dice Fringe Perché no Ecco Fringe è una roba Che ci ha dato Forse ci ha dato L'idea di non aver detto Proprio tutto Quello che doveva dire Proprio tutto Quello che doveva dire E quindi Anche se aveva detto Tantissimo E quindi Sì sono un po' D'accordo Anche in Sherlock Dice 24 con Jack Bauer Voglio sapere Cosa gli è successo Ma cosa vuoi che sia successo A Jack Bauer Sarà finito in qualche buco A rimpiangere la vita E E se qualcuno Lo va a chiamare Ammazza di nuovo tutti Questo è Questa è la faccenda Person of interest Però person of interest Era proprio finita Anche lei Non so Poi per carità È tutto legittimo Contesto Alcune cose Per amore di discussione Ma naturalmente È tutto legittimo Proprio nel senso di Mi piaceva tanto La vorrei rivedere Paola V dice Io adorerei una nuova stagione Di Popular Sai che non ho mai visto Popular E quindi non ho idea Di questa cosa Martina invece Si lancia Esagera E dice Farfly Ovvio Galavant e Banez E Galavant È stata una brutta cancellazione Quella di Galavant Poteva andare avanti Veramente tanto tempo E ci sarebbe Sempre piaciuta tanto Per chi non l'avesse vista Io non so Dove si possa recuperare Galavant In questo momento Forse non c'è Da nessuna parte Galavant era una serie Comedy Diciamo medievale Di ambientazione medievale Ma musical Però musical da ridere Con tante canzoni originali Cioè un livello produttivo Molto importante E assolutamente esilarante Proprio una serie Bella 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 Che però Non ha incontrato Così tanto favore del pubblico Forse perché comunque Il musical Un musical Che non è Alla Glee Che quindi Già tiri dentro Le canzoni già famose Probabilmente è difficile Per il pubblico Comunque Ma lo vediamo anche in Italia Banalmente Quando si mette un musical In prima serata Anche un film A meno che non sia Mary Poppins a Natale Voglio dire O appunto Il cartone della Disney Natale Il musical fa sempre fatica Perché evidentemente Resta un genere Naturalmente di nicchia E Bannez Che era la serie Di Amy Sherman Palladino Diciamo Prima che Amy Sherman Palladino Facesse di nuovo Fortuna Con The Marvelous Mrs. Maze Dopo Un romano per amica C'era Bannez Che Sulle ragazzine Che ballavano Ed era Molto carina Molto divertente Anche quella è stata Una cancellazione Dolorosa Non era la serie Della vita Eh ragazzi Però Però Insomma Un po' Un po' spiace Tiziana Ci dice Teen Wolf Attenzione È un Tema Curioso Io devo ammettere Che Teen Wolf Ero già talmente poco Teen Quando è uscita Teen Wolf Che non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta assolutamente A starci dietro a questa cosa Eh Però so che aveva La sua fanbase Abbastanza Agguerrita Abbastanza agguerrita Non so dire Magari diccelo tu Se era finita Aveva avuto un finale O non ce l'aveva avuto Purtroppo Non Non lo so Caindo Spark Caindo Spark Fa della facile ironia Dicendo Low End Order Ne hanno fatte troppo poche Ecco Low End Order Credo che Low End Order Beh Low End Order Allora Low End Order SVU È arrivata alla stagione 20 2 3 Sempre a 20 puntate a botta Stiamo parlando di 400 500 puntate di Low End Order Sempre 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 Con Poi Se parliamo di Low End Order SVU Perché poi ci sono stati tanti spin off Low End Order SVU Sempre Unità crimini speciali E quindi sempre Gente violentata Gente morta male Cioè Mamma mia E devo dire che una volta Avevo visto un video In cui si vedevano Dietro le quinte Pai le papere No? Di Low End Order SVU E c'era Mariska Arritai Che è la protagonista di Low End Order SVU Che rideva No? Sai come se Fanno le cose Ridono Perché sono attori Ridono se sbagliano Però Ridere Durante i dialoghi In cui stai parlando La gente stuprata È una roba Che io trovavo Un filino ansiogeno Onestamente Però evidentemente Si divertono A fare anche loro Quella roba lì Immagino che Quello che noi vediamo Come pathos Non sia vissuto come pathos Mentre la girano Regnius Non ti ho mai visto Regnius Ho mai vista Sei nuovo Nuova Complimenti Anche se l'universo di Fringe È costruito così bene Che ci sta È vero Encello dice anche Pitch Sede sul baseball Che non ha visto nessuno Ma a me è piaciuta Esatto Io non l'ho vista Non so nemmeno cosa sia Ma Mi piace Che vai a cercare Le cose piccole Un po' no Ma non mi rendo conto Ma Rush and Hall Mi ha lasciato la voglia Una seconda stagione Ma Rush and Hall Credo che debbano fare La seconda stagione Non è stata cancellata Rush and Hall Attenzione È stata fermata Da covid Da cose Ma io non credo che Credo si sia parlato Della seconda stagione Rush and Hall Io È una di quelle serie Che Devo dire che Non lo so A me non è spiaciuta Ma Ho l'impressione Che abbia ricevuto Più consenso Lì per lì Di quello che meritava Tanto è vero Che non se ne parla più Granché Dopo un mese Non se ne parla più Granché Ma in quel momento Sembrava la roba della vita Però ragazzi Ricomincio da capo Un'altra volta Quindi Ok Però non lo so O Aliena Che cita Life Quella con Damian Lewis Per avere la fine Dell'indagine Questa era una serie Che era prima ancora Che Damian Lewis Facesse Homeland Che poi Diciamo Lo rese davvero Davvero famoso Nel mondo seriale È vero Life Credo due stagioni Serie poliziesca Era stata Era stata chiusa Così Regno dice I'm not ok With this Anche questa È una serie Che è un peccato Che sia stata Cancellata Perché Oddio Era un po' Simile ad altre cose Che erano uscite Nello stesso periodo Secondo me Per quello Non ha fatto La stessa Come dire Lo stesso Non si è imposta Con la stessa forza Però è una serie Garuccia Una serie Garuccia Ciccio baciccia Che dice Io vorrei una nuova stagione Di reprisal Perché è stata cancellata Dopo una sola stagione E aveva uno stile Un plot Dei personaggi fantastici Mi piace questa cosa Che sta uscendo fuori Detto che io reprisal Non l'ho vista Ho visto forse un episodio Ma al di là di questa cosa qua Mi piace perché Tutti abbiamo Come dire Queste pillole Che nascoste Che sono state cancellate E quasi nessuno Magari Cioè io Credevo che voi Mi avreste parlato Di più Di serie Molto famose Molto amate Che ne so Magari degli anni 80 Negli anni 90 Di cui volevate una nuova stagione Per E invece no Andate a prendere Quelle piccoline Che hanno cancellato Perché magari Sono piaciute solo a voi Ma Vi è rimasta Quella roba lì Quel tarlo lì E questa è una cosa Molto carina Secondo me Bodyguard Anche Ma anche Bodyguard Ma Bodyguard Non ce la doveva La seconda stagione Scusami Cioè è rimasta Non lo so Io sapevo Ce la doveva avere Invece Effettivamente Non se ne parla Da un po' E E Brochior Per avere dosi supplementari Di Tenant Però le dosi di Tenant Si beccano in giro Non è che c'è bisogno Di Brochior Specificamente Effettivamente In questo momento Mi viene da dire Glow Ma solo perché Ho trovato ingiusta La cancellazione Più che altro La cancellazione di Glow Serie sul restring femminile Di Netflix Che è ancora su Netflix Se la volete vedere E tra l'altro E tra l'altro Alison Brie Che è la protagonista Di Glow Recentemente ha detto Ragazzi guardate che Probabilmente il tipo Movie conclusivo Non si fa Quindi non state Aspettare troppo Peccatone Non lo so Hanno detto Che era per il Covid Però è stata Cancellata per il Covid Quando poi tutte le altre serie Che non hanno voluto cancellare Hanno semplicemente aspettato E poi le hanno fatte Quindi Non si è capita bene Questa cosa Ci rimarrà sempre il dubbio Su quale sia Il reale motivo Della cancellazione Di Glow Ah Barbara dice Che 24 Legacy Non esiste Ma proprio perché non esiste Non ci rendiamo conto Che forse è un po' Finita la questione Forse basta Ragazzi Pippocato dice Vinyl Capisco Ma non concordo La fatica Che ho fatto A finire Vinyl Trovavo una serie Di una noia Spettacolare Girata benissimo Ma Narrata E scritta Con un ritmo Inesistente Mamma mia Proprio che palle Onestamente Quando è finita Ho detto Beh dai Comunque sono Contetto Che non ne fanno Un'altra Monica cita Stiesel E Sherlock Ma Stiesel È uscita la nuova stagione Tipo Due settimane fa No Non è uscita la nuova stagione O forse tu Già stai pensando Alla prossima Sherlock Eh Sherlock Purtroppo Sherlock È stato un po' Funestato Dall'esplosione Della fama Di Benedict Cumberbatch Che si è messo a fare Cento cose E lo stesso Martin Freeman Tutto sommato Si è messo a fare Cento cose E Soprattutto il cinema Soprattutto la Marvel Soprattutto E quindi Non ha tanto tempo Paradossalmente Se avesse avuto Meno successo Sherlock Forse avremmo visto Altri Sherlock Però Hanno sempre detto Che loro a un certo punto Potrebbero tornare Sherlock Non è ufficialmente morta È in sospeso Magari in attesa Che Benedict Cumberbatch Toppi un film E dica Mi devo rilanciare Facciamo un'altra puntata Di Sherlock Allora D.O.A Dice Varax D.O.A Sarei curioso Cosa tirano fuori Dopo il finale Meta Secondo me Una roba brutta Esattamente come Quello che avevamo già visto Grazie E andiamo avanti Qua ci voleva il Villa Che rideva con me E invece non c'è Però io D.O.A L'ho trovata Una panzana Pretenziosa Veramente Una puttanata Di proporzioni Gigantesche Con il finale Di quelli là Che devono Che Fanno lo yoga Per impedire Che quello Mitragli tutti È una roba Ridicola D.O.A Veramente ridicola Infatti non se ne parla mai più Tutti felici in quel momento lì E poi si è smesso di parlarne Perché tutti Se la sono dimenticata Come è giusto Che fosse Grazie a tutti voi Varax ma io lo sai Che ti voglio bene Flash forward Madonna Per capire se avessero Una qualsivoglia idea Di dove andare a parare Ma guarda te lo dico io La risposta è no Quindi Puoi star sereno così American Gods Attesa infinita Senza finale Anche no È stato Sì Nel senso che American Gods È una serie Che ha un grosso Ha avuto A questo punto Un grosso problema Di costruzione Della suspense Serie pesante 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 In cui sembrava sempre Che dovevessero succedere qualcosa E non succedeva mai niente E siamo rimasti lì Perché ci piaceva il setting Perché ci piaceva la messa in scena Tutto quello che vuoi Ma non succedeva E alla fine ce l'hanno chiusa Prima che potesse esplodere Una maledetta guerra Che durasse due puntate due Ma che ci fosse la morte Di tutti Nel sangue Negli effetti speciali Non ce l'hanno permesso Maledetti tutti Maledetti tutti Però C'è Neil Gaiman Che continua a dire O perlomeno Nelle settimane dopo la cancellazione Ha continuato a dire No 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 Noi faremo in modo Di fare l'ultima stagione Di American Gods Quindi vediamo E speriamo che Agna dice Sonso Vanarchy Volevo dirti che Il seguito di Sonso Vanarchy Esiste Si chiama Mayans No capisco cosa intendi Però dai Sonso Vanarchy Era veramente Veramente finita Secondo me Cioè Proprio un parabolone Che non Non diciamo nemmeno Come è finita Ma ragazzi È finita Sonso Vanarchy Però c'è Mayans Che tutto sommato Questa stagione qua Gli ultimi episodi Non sono stati neanche male Devo dire la verità Finita ieri L'altro ieri Dicono Qua dicono Parlate tra di voi Per dire che probabilmente Fanno la seconda stagione Di Gudomens Ma con che trama In tutto questo Vabbè Mr. Raiden dice Dirò qualcosa di Ipernicchia O Ipernicchia Scritto così Visto che 24 L'abbiamo già detto Ma 24 non è di nicchia E dico Ah tu dici in aggiunta E dico che vorrei vedere Una terza stagione Di Reaper Sono abbastanza certo Che ci sia tipo Ugo Che sarà contento Di sentire questa cosa Bravo Pippo Gaudo Che mi dà soddisfazione Con una roba vecchia Dicendo Ralph Supermax Eroe Guarda che Una serie Ma è vivo il tizio Vorrei dire una sciocchezza Ma Oggi Un tv movie Una mini serie Di tre puntate Con lui Invecchiatissimo Sarebbe una cosa Veramente Veramente Una roba di culto Immediato Vediamo Pure Boston Legal Dice Monica Bello Boston Legal Sempre piaciuto tanto Boston Legal Era in realtà Uno spin off Di The Practice Professione Avvocati Ma a me piaceva Tanto di più Boston Legal E faceva molto ridere Faceva Cioè poi non era una serie comica Teoricamente Però faceva super ridere Avvocati che facevano ridere Era parente di Ellie McPeel Era parente di tutta quella gente Santa Clarita Diet Dice Chiara B Di Netflix Che purtroppo l'hanno conclusa Con un cliffhangerone Sai che non sono mai arrivato Alla fine di Santa Clarita Diet E questa cosa che tu dici Mi rende solo contento Del fatto di non essere arrivato Alla fine di Santa Clarita Diet New season di Sherlock Dice Paolo V Anche lei Vedrei anche una nuova stagione Di Happy Happy è una serie piccolina Ma così fuori di testa Che ragazzi Effettivamente meritava C'era il protagonista Christopher Meloni Che era Poi era stato Coprotagonista Di Lo Endor Delle SVU E forse adesso ci torna O tornava nel nuovo spin off Vabbè Lì è troppo complicato Su un ex poliziotto Uscito completamente di testa Che vede Che riusciva a vedere L'animaletto immaginario Della figlia Che animaletto immaginario Che andava a prendere lui Per salvare la figlia Che era stata rapita Ma una roba Il personaggio Gino era fatto a cartone animati Doppiato da Patton Oswalt Ed era una roba Super divertente Super Violentissima Tamarra Grottesca Carino Chiara dice Firefly Non so cosa sia Attenzione Attenzione Firefly È serie di Josh Weddon Successiva a Buffy Con protagonista Nathan Fillion E un sacco di gente Che all'epoca Magari era meno famosa Di adesso Ma c'era Morena Baccarin C'era Alan Tudyk Ed era una serie Diciamo Western spaziale Era ambientata In un futuro In cui però C'era appunto Un'atmosfera Un'ambientazione Abbastanza Western Da un certo punto di vista E facevano cose Alla Josh Weddon Quindi erano un gruppo Di personaggi Che facevano cose eroiche Ma con sempre Il sorriso sulle labbra Con un po' di drama Un po' di comedy Un po' di simpatia Ed era veramente caruccia Veramente caruccia Se la vedi oggi È molto invecchiata È proprio Tutto quello Che è fantascienza Tende a invecchiare Abbastanza presto Per una questione Anche di effetti speciali Di cose così Però È super divertente E l'avevano chiusa Dopo una stagione È rimasta una Di quelle cose Che negli anni La gente dice Oh diamine Quanto vorrei vedere Farfly Bla 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 La seconda stagione Di Feed the Beast Giustamente Dice Chiara Che è una chef Una Vabbè Tu sei specificamente Pasticcera Giusto Non so se è stata Anche chef In generica Non voglio usare Termini inappropriati Che non conosco bene Comunque Feed the Beast Dove c'era il buon David Schwimmer Cioè Ross di Friends Ed era una serie In realtà Un drama A tinte un po' thriller Ambientato però In un ristorante E tutta la parte Del ristorante Io non so dire Se fosse veritiera O meno Ma era molto Gustosa Usare questo termine E Barbara dice Vorrei Anche di Fleabag Vedrei volentieri Un'altra stagione Tutti vorremmo vedere Una nuova stagione Di Fleabag Ma È stato detto Che No Phoebe Waller-Bridge Ha detto No Dai facciamocela bastare Fleabag Che non ha Un minuto Che non sia perfetto Un minuto Quindi lasciamola così Lasciamola perfetta Che va bene così Anya B dice Tabù con Tomardi È vero Anche quella è rimasta Un po' Un po' Sospesona Monica dice Lo indoor Dele fichissima Non metto in dubbio Non è più Tanto il mio genere Devo ammettere Però insomma Se dura da 25 anni Evidentemente Perché piace Cicciobaciccia Dice Vorrei una nuova stagione Di Benshi Benshi Bello Benshi Benshi Piace molto È sempre piaciuto Benshi erano Picchiarsi bene E Vedere donne nude Bene Questo era un po' Benshi Poi in realtà Aveva anche una bella trama All'articolata Però quando si menavano Era una roba Veramente Veramente eccezionale E il protagonista di Benshi Era Scusatemi Non mi ricordo Il Il nome Ma è quello Che poi ha fatto Homelander In The Boys Che quando l'ho visto In The Boys La prima volta Non riuscivo a riconoscerlo Perché gli hanno Modificato Gli hanno aumentato Ultimamente la mascella Che era già Prominente I capelli diversi Un pochino più grosso Quando l'ho visto Ci ho messo veramente Un po' a riconoscerlo E Aliena dice Vorrei un'altra Reunion Di Parks and Recreation Mamma che bello Sarebbe avere Un'altra Altre mille stagioni Di Parks and Recreation Assolutamente sì Parks and Recreation Creata dagli autori Di The Office Dopo The Office Comedi Eccelsa Eccelsa Sia come Commedia Sia come Capacità di creare Personaggi Da amare Senza nessun tipo Di riserva Tutti Tutti Amare tutti Quindi se non avete mai visto Parks and Recreation Guardatela Perché è veramente Tantissima roba And Sherlock Dice Dogs of Berlin Che io non ho visto Però so che piaceva molto Quindi sì Monica dice Però attenzione Non quella crimini speciali Che è troppo centrata Sui crimini sessuali Quella normale Ma quella normale è finita Però è tanto tempo fa Giusto? Cioè stiamo parlando Veramente di anni 90 A questo punto Perché poi Quella che è andata avanti Veramente è stata quell'altra Counterpart Dice Varax Molto bella Counterpart Con J.K. Simmons Protagonista E i primi due episodi Mi avevano flashato A manetta Ambientata in questa Specie di Ucronia Diciamo In cui Si era scoperto Un passaggio A un'altra dimensione Tutto giocato In termini Un po' Da guerra fredda In cui I rapporti Tra la nostra dimensione E l'altra dimensione Che si era creata In un punto preciso Della storia Chiaramente Le due storie Avevano cominciato A divergere E i due Stati Uniti Diciamo E erano diventati Completamente diversi E i rapporti Tra le due dimensioni Erano regolati Appunto Da una sorta Di guerra fredda E' Veramente molto bella Secondo me E' un filino calante Poi con l'andare Degli episodi Perché è diventata Un po' complicatina Però Tanta roba Raios Cita Rai News Scusami Cita The Newsroom Di Aaron Sorkin Bellissima The Newsroom Bellissima The Newsroom Ancora ogni tanto Si vede girare La prima scena In cui c'è Jeff Daniels Che Di fronte Fa il giornalista E di fronte A una ragazza Che gli chiede Ci può dire Perché l'America È il paese più grande Del mondo Snocciola tutti i motivi Per cui L'America Cioè gli Stati Uniti Non sono il paese Più grande del mondo Migliore Insomma Più grande Lì dicono Greatest Ma insomma Avete capito Bella Molto bella Finita un po' Presto Anche se L'ultima stagione Si era un po' Incartata Perché nel tentativo Di mostrare L'integrità Dei suoi protagonisti Giornalisti Aaron Sorkin Costruiva una trama In cui loro facevano Un errore E questo errore Li mandava In uno sbattimento Così fotonico Per tutta la durata Della stagione Che secondo me Era diventato un po' Pesante Un po' Troppo Cioè Poi Aaron Sorkin Quello fa Ti mette in scena Come ha fatto Nel processo Di Chicago 7 Con cui è stato Candidato agli Oscar Mette in scena Dei personaggi Che sono Ogni volta Sono il meglio Di quello che puoi trovare Lì Cioè con West Wing Erano i migliori politici Che una persona Possa sognare Lì erano In The News Erano i migliori giornalisti Che una persona Possa sognare In termini di Rettitudine morale Stiamo parlando Di questa cosa qui Però lì L'aveva attivata Un po' In lunga Secondo me Sto arrivando alla fine E quando arriverò alla fine Magari ci stoppiamo Ci diciamo due notizie E poi andiamo A giocare alla Playstation Con il mio amico Samuele Ciao Samu Tanto non mi guarda Ma andiamo a giocare a FIFA Proprio voglia Monica dice Ditenant No in realtà Non è vero Che l'ho arrivato alla fine Dannazione È solo successo Che non mi aveva aggiornato Il feed No No Avete scritto Tantissime robe ancora Facciamo che Smettete Fatemi arrivare Alla fine Vi prego A meno che Non avete qualcosa Di clamoroso Un'altra stagione Di Olympus Da parte di Aliena Ma se fanno Un'altra stagione Di Olympus Noi non la guardiamo Naturalmente Terra Nova Di Spielberg Tiziana Però Terra Nova Non era stata Una crassa delusione Cioè non era stata La serie Che pensavamo Che in quel momento lì Spielberg Sarebbe riuscito A mettere in scena Gli stessi Dinosauri di Jurassic Park E poi alla fine Erano un po' Paccosi Per lo meno Io speravo Quella cosa lì E invece era Un dramma Un po' familiare In cui gli effetti Speciali Non erano così Eccezionali Poi secondo me Tutto sommato Funzionava anche Come da un punto di vista Della storia Mi ero rimasto Molto deluso Da un punto di vista Visivo Madonna Mario Po O Mario Po O Mario Po O Mario Po Cioè Aggiungo The Get Down Di Lurman Che peso No È stata una delle cose Più pesanti Mai prodotte Per il piccolo schermo Non so Non mi piace tanto il genere Non mi piace tanto l'ambientazione Devo ammettere Comunque serie Musical Di Buzz Lurman Che Dove un po' Veramente basta A Chiara dice Che siamo d'accordo Su The Way Va bene Un'altra stagione Di Daredevil e Benshee Dice Cimbro Beh Daredevil Effettivamente Nel tentativo Supereroistico Di Netflix Alla fine è stata L'unica davvero Davvero bella No anche The Punisher È stata bella Ma Daredevil È stata Diciamo La prima Insomma Quella veramente bella Un modo veramente nuovo Di mettere in scena I supereroi E purtroppo È andata un po' A morire Un po' Perché gli spin off Non sono stati all'altezza Gli spin off Insomma Le altre serie Di quella Di quella operazione lì Non erano all'altezza E un po' Perché poi La Marvel Se l'è magnata Disney E quindi niente Agil chiede Se The Leftovers Merita il recuperone No The Leftovers Il recuperone Lo pretende Quindi Non è che lo merita Cioè lo pretende Capolavoro straordinario Non perfetto Non perfetto Ma capolavoro comunque Cioè le serie tv Fighe Si fanno così Cioè che dici Adesso faccio una roba Completamente fuori di testa E Demon Lindelof L'ha fatta E l'ha scritta bene Dall'inizio alla fine Secondo me Senza veri problemi Che aveva avuto in Lost Quindi Secondo me è tanta roba Paola V dice Love Seek Che prima si chiamava Scrotal Recall È bella Molto divertente Sì sì Ci potrebbe stare Un'altra stagione Assolutamente American Gods È un coitos interruptus Verissimo Pippo Gaudo Dice che A me Santa Carita Dai Faceva ridere Ma in realtà Era abbastanza comica Santa Carita Dai Quindi tutto sommato Lo ci sta Boss Dice Mario Brrge Ve l'ero anche lei Ma Boss Aspetta Non vorrei confondermi Boss era quella Con Kelsey Graham Che faceva il sindaco Era quella lì Se è quella lì Sono d'accordo con te Se no Non lo so È morto Williams Chi è Williams? Mi sto perdendo una cosa Di attualità? Non lo so Cosa sta dicendo Ma 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 Prima stagione di Happy Favolosa Dice Mario Pommarie Pommarie Questa gag Stardinaria Seconda molto meno Secondo me più che altro Seconda Che era così simile Alla prima Cioè la prima era così sorprendente La seconda non poteva essere in alcun modo così sorprendente Quindi ce l'ha fatta sentire un po' meno Secondo me Martina Albi dice Wilfred Carinissima Wilfred Con Eh ragazzi Il 23.10 del venerdì Con Vabbè Frodo Dai Avete capito Che Aveva l'amico cane Che in realtà Era interpretato da un uomo in costume Ed era una Remake di una serie Australiana Dove c'era lo stesso tizio Vestito da cane in costume Super 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 divertente E super super strana Se sta su Netflix La guardo Sta firefly Dice Monica Secondo me non sta su Netflix Così ve lo dico Se cercate Magari conoscete già Ma se volete sapere dove Dove e se Certe film o certe serie Sono disponibili in Italia Dovete andare su Justwatch.com Che fa esattamente questa cosa qui Mettete il Justwatch Mettete il Il nome Nella vara di ricerca E vi dite se Se è da qualche parte Legalmente in Italia Chiarabì dice Parlando di avvocati Che fanno ridere Mi è venuto in mente Trial and error Aveva dei personaggi Un po' idioti Alla Parxerex Molto carina Vero Assolutamente vero Una chicchina Anche quella da recuperare Non so dove sia Però Si faceva molto ridere Mi piaceva molto anche a me Effettivamente Anche lì Un po' in sordina Poi è finita E vabbè Però va bene Agna dice Che guarda Mayans Però sarebbe stato curioso Di vedere la storia Dei Sons of Anki Sì sì Ma avevo capito il senso Va bene Martina Iabbi Sono veterinaria Mi ha fatto morire dal ridere Stiamo parlando di Wilfred Sì Ok Bello che faccia ridere I veterinari Quindi vuol dire Che ci azzeccavano Su certe cose Dei cani Ma perché tabù Non ne fanno più Perché è un tabù Non c'è chiara evidentemente No dai Bojack Horseman No No Allora Per quello che vi ho fatto La richiesta all'inizio Il fatto che si possa desiderare Di avere ancora Bojack Horseman La ritengo una cosa Più che legittima Allo stesso tempo Bojack Horseman È veramente finita Secondo me È veramente finita Benissimo tra l'altro Benissimo E quindi Bene così Il buon Alex Dice assolutamente Fleabag Come già detto in precedenza È vero Finita troppo presto Più che altro Abbiamo avuto pochi episodi Distanti In poche Non lo so Però Però non lo so Secondo me Quando una cosa è così perfetta E la sua autrice dice Basta Così deve essere Ho anche paura A chiederne altre Non so come dire Mi sembra veramente Che sia Chiusa lì La trama di Benshee Dice Aghe era Lily Simmons E l'ho detto Che comunque C'era anche Quel tipo di Attenzione Di IT Crowd Dice il buon Alex Anche questa Come in inglese È molto molto divertente Che volendo Se ne potrebbero fare Di altre Probabilmente costava 22 euro Episodio Lo giravano In due stanze Proprio Monica dice Vabbè Allora dico pure Spazio 1999 Così un po' L'arroganza Ma Monica Lo puoi dire Se ti piace Spazio 1999 Anzi Io ritengo Che in realtà I sequel Delle cose Molto vecchie Siano poi Parallelmente Più interessanti Di altre Ma che siano sequel Non che è un reboot Ok Perché Scusate Mi ero frizzato Mi sono preso male Non che è un reboot Perché i reboot Sono MacGyver Magnum Pi Cosa che non serve a niente No no Noi rivogliamo La roba vecchia Ma con quelli vecchi In questo senso The Conners Cioè Il seguito di papà e ciccia È giusto Perché c'è la stessa gente E quando fanno rivedere Quello Quando chiudono le storie Iniziate 25 anni fa Te provi il brividone Lungo la schiena Quindi se invece le rifai Vabbè Erika Brù dice Meglio The Office Parks and Rec O Community Qua devo iniziare Un'altra puntata Solo per pensarci Non lo so Allora Nel complesso Di tutto Se consigliamo Dall'inizio Alla fine Io Voto Parks and Recreation Forse anche perché L'ho vista Prima di The Office Forse voto Parks and Recreation Non lo so Ma è veramente una cosa Così a sensazione The Office Siamo lì Ed è più o meno Lo stesso concetto Da un punto di vista La comicità Community È un'altra cosa Community Secondo me Ha Una percentuale più alta Di episodi Non funzionanti Quando era andato Gli adenarmon E così Però Community Le prime tre stagioni Perlomeno Vale la pena Di vederlo Perché è di una creatività Così debordante E strizza così tanti occhi Anche gli appassionati Di serie tv Che è assolutamente Splenida Quindi diciamo Che mi stai Come se mi chiedessi Scegliere tra i gatti Qua Non lo so Non lo so Dico Parks and Recreation Stora la tempia Però è tutta roba Che merita il recuperone Ecco Don Vincenzo Esattamente dice Quello stavo dicendo io Prima Cioè Bojack Non perché non abbia avuto Finale degno Ma perché ne vogliamo ancora Derry Girls In teoria Non era esclusa La possibilità La terza stagione Ma effettivamente Abbiamo saputo niente Derry Girls Comedy Ambientata In Irlanda Molto ridere E accenti Fuori di testa Completamente Quindi è molto divertente Mamma mia Non riesco Non riesco A arrivarvi In pari Vi prego Smettetela Seriamente Smettetela Perché se no Questa puntata Non finirà mai Monica dice Non dire Tanto tempo fa Quando suggerisco qualcosa Mi fa sentire vecchia Eh vabbè Figlia mia Però Spazio 1999 È un po' È un po' Ma è tutta saggezza È tutta saggezza Ed esperienza Quindi non è che Pippo Gaudo Beat Serie tedesca Tecno berlinese E cupezza Top Descritta così Forse è la cosa più lontana Dal mio gusto Che possa esistere Qualcuno ha mai sentito Parlare di Rectify Si ne abbiamo sentito Parlare Io però Ammetto che non Averla vista Però anche lei C'ha il suo Fan club Molto Molto Agguerrito Bla 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 Ah si Di Apple TV Plus Dice Agna B Io pensavo che Avrebbero fatto Una seconda stagione Di si E invece no Questa con Jason Momoa Ambientata in un futuro Post apocalittico In cui tutti Gli esseri umani Sono ciechi Tranne un tot Di ragazzini E Stranona Però Abbastanza appassionante In realtà E non Non l'ho più fatta Non lo so Se l'hanno Ufficialmente cancellato Se magari Il covid Costava troppo Non lo so Vabbè Ringer Con Salami Schergellar Dice l'Alebru Posso votare No Questa cosa Per massimo rispetto Per Per l'altra cosa Però io Voto no Perché Secondo me Era stato Un passo falso Nella Ma poi Un passo falso Nella carriera Nella carriera Di Sara Michelle Gellar Ma dopo Buffy Ci sono passi Veramente importanti Nella carriera Di Sara Michelle Gellar Obiettivamente Non lo so Non lo so Non lo so Ah vabbè Comunque Comunque parlando di cose serie Puntata con domandone Meglio di puntata classica Ma qual è la puntata classica A questo punto Cosa intendiamo con puntata classica Calcolando che In 25 puntate Abbiamo cominciato a fare il domandone Tipo alla terza Non so più dire Non so più dire Dai Dai Sì Il film conclusivo Di Firefly E su Prime Ma c'è anche la serie Il film conclusivo Di Firefly Si chiama Serenity Ma non so Se poi c'è anche la serie Dai che riesco A arrivare in pari Vi prego Non sono assolutamente Attenzione Polemica Non sono assolutamente D'accordo sul tuo giudizio Su The Get Down Per me è una ricostruzione Eccezionale del periodo Che ho vissuto in diretta Vista la mia età Ma continuerò a seguirti Perché il resto Sono in linea con i tuoi gusti Vabbè ma scusa Ma perché Se non sei in linea Con tutti i miei gusti Mi molli Cioè adesso non ho capito Non si fa questa cosa Per essere tutti d'accordo Anzi si fa per non essere d'accordo E parlarne nel massimo rispetto Di tutte le opinioni Quindi ti prego Sì continua a seguirmi Anche se non siamo d'accordo Su The Get Down Però se tu mi dici Ricostruzione eccezionale Del periodo che ho vissuto in diretta Secondo me è già diverso Perché io non contesto Che sia una buona ricostruzione Di quel periodo Che io non ho visto in diretta Quindi assolutamente Questa cosa io Non è che sono d'accordo Non ho motivo di contestarla La trovo semplicemente noiosissima Trovo semplicemente noiosissima E secondo me Se non ti piace specificamente Quel periodo lì È noiosissima Mentre secondo me È una bella serie È una serie Che ti fa appassionare A qualcosa Anche se tendenzialmente Potresti pensare che Quindi secondo me L'esempio principe Di questa cosa qui Resta The West Wing Cioè voi avete Con The West Wing Voi avete una serie Che parla di politica Ma non tanto Delle campagne elettorali Che sono facilmente Narrativizzabili Ma dell'amministrazione Quotidiana Di un paese Che è una roba Potenzialmente Di una noia Paurosa E invece The West Wing È una roba Che ti berresti 12 episodi a sera A giornata E quindi secondo me Quello lì È l'esempio Di come rendere bene Una cosa Anche se uno non la conosce Mentre se invece Una cosa ti piace Perché ti piace Specificamente quella cosa lì Va bene Per carità Però secondo me È una cosina in meno Diciamo Il reboot di MacGyver La recensione sul sito Sì c'era la recensione sul sito Forse non è nemmeno tragica Ma era semplice Una cosa tipo Beh non ci interessa È finita tra l'altro Dopo sei anni È finita In questi giorni qui E tutto sommato Non se l'ha cagata nessuno Cioè non è vero Ha fatto i suoi ascolti Però nel senso Da un punto di vista Mediatico mondiale Chissenefrega Vabbè qua parlate tra di voi Va bene Il grande tema della lentezza Grande tema della lentezza Ci potremmo fare una puntata Su questa cosa qui Le serie lente Quando era nata AMC La rete di Breaking Bad Di Mad Men Di The Walking Dead All'inizio noi su Serial Minds Ne parlavamo come la serie La rete della lentezza Cioè che aveva riscoperto Il piacere della lentezza Detto che rispetto alle serie normali C'era già HBO Che aveva fatto tante cose lente Se vogliamo Però Aveva proprio la rete della lentezza Ma di cose bellissime Quindi certamente la lentezza Non è sinonimo di rottura di balle Però Se fai una cosa lenta Devi saperla fare bene Ah che carina aliena Che dice Rectify l'aveva dunque vista Solo il Villa Perché io la cominciai Proprio per la vostra recensione Sì Il Villa probabilmente ha visto tre episodi Non pensare che è così Sara Michelle Gellar Non ha ancora avuto Il suo The Good Place È vero È vero Come Kristen Bell Speriamo che prima o poi ce l'abbia Non chiedere Castelli Che poi ti rispondiamo E c'hai ragione Però che fa Che devo fa Secondo Just Watch Firefly non è disponibile Nessuna parte Eh lo temevo Devo ammettere che lo temevo Sì 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 Quantum Leap Dice in Sherlock Devo ammettere che non ho mai seguito Quantum Leap Per quanto è un'altra di quelle serie Che ho sempre pensato Questa dovrebbe piacermi a bestia Perché non la sto guardando E la risposta Tuttora non la so Però vabbè Sono alla fine ragazzi Sono alla fine Sono alla fine Sono alla fine Non scrivete altro Aspetta Pensavo Che l'avresti L'avresti insultata pesantemente Invece non merita nemmeno considerazione Ma di che cosa stiamo parlando Agil Scusa Mi sono perso un po' Ah MacGyver No 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 Ma non era da insultare Non era una serie girata malissimo Non era È semplicemente una cosa che No All'epoca era un'ideona Negli anni Ottanta Era un'ideona Fichissima Con un grandissimo personaggio E adesso è Una serie come le altre Niente di che Il massimo della lentezza È Tu all to die young Bellissima Ecco io non userei Tu all to die young Come esempio di lentezza bella Perché io Se non mi sono suicidato Prima alla fine del primo episodio È stato purissimo culo Dimentichiamoci tutto Sì Agil Dimentichiamoci tutto Giusto la tua faccia Quando hai visto la fine Dell'ultima puntata Dell'ancella Ma non mi sembra Che all'ultima puntata Dell'ancella Cioè che alla fine Sia successa una cosa Così clamorosa Da meritare Questa tua ansia Che hai stasera Scrivimi su facebook Dopo eventualmente Perché non sto Sai che non sto riuscendo bene A capire a cosa ti riferisci Perché non Sì cioè Come sempre Sia un finale Abbastanza interessante Ma non mi sembra Che sia una roba Boh Non lo so Va bene Dai Facciamo che chiudiamo No Chiudiamo O volevo dirvi due cosine Per Per quello che ci piace sempre No Sono uscite Allora Ci sono un po' di notizie Che sono Della settimana Che sono This is us Che chiuderà Con la sesta stagione Ma era abbastanza Dichiarato C'è però una cosa interessante È venuta su un po' di polemichetta È venuta su un po' di polemichetta Perché praticamente È tornato fuori Il discorso Dove diavolo è Qua È tornato fuori Il discorso Relativo A quella Clausola di contratto Di Clausola di Chrissy Metz Che interpreta Kate Che a un certo punto Dovrebbe dimagrire Si era parlato Che c'era Che c'era Questa cosa Che lei doveva dimagrire A un certo punto Della serie Perché Verosimente Per mostrare Una sua versione Del futuro Dimagrita È venuta su un po' di polemichetta Perché Perché evidentemente Chrissy Metz È un fino sovrappeso E Chiaramente Body shaming Perché dovete obbligarla A dimagrire Quelle robe lì Che però Mi ha fatto un po' ridere Perché Ci sta bene che Non lo so Che Ryan Reynolds Piuttosto che Non lo so Che Robert De Niro Diventi una bestia Per fare Toro Scatenato È che alla fine Di Toro Scatenato Ingrassi Ci va bene Che Tom Hanks Ingrassi Per fare Castaway E poi dimagrisca Per fare Castaway E Non parliamo di Christian Bale Per fare Per citarne uno Che voglio dire Ha fatto delle cose Perfino pericolose Con l'uomo senza sonno L'hanno dovuto fermare Per evitare Di diventasse anoressico E E Questo ci va tutto bene Però se Chrissy Metz Che da un punto di vista Clinico Ragazzi Avrebbe bisogno Di dimagrire Senza fare Nessun tipo di giudizio Morale Su questa cosa Ma è evidente Questa cosa qui Da un punto di vista Clinico Medico Avrebbe bisogno Di dimagrire Se riesce a farlo Spinta Come dire Supportata Da una produzione Televisiva Che l'aiuta Perché le serve Per il suo personaggio Non capisco Quale sia Il problema Quindi Boh Vabbè E E E' venuta fuori Questa Questa cosa qui Che Paradossalmente Il fatto di dirlo Di una donna Mi sembra discriminatorio Nei confronti delle donne Se non lo diciamo mai Degli uomini Se non ci preoccupiamo mai Della salute degli uomini Perché ci dobbiamo preoccupare Della salute di un'attrice adulta Che prende le sue decisioni E Della sua vita Quindi Boh Vabbè Altra notizia interessante Sono uscite le prime immagini Non so quanto vi interessa Ah no Comunque Fatemi finire E rinnovi Eccetera Di Sars Chiuse con la terza L'11 giugno Torna su Apple TV Plus La Seconda stagione Abbastanza tesa ormai Di Home Before Dark Che era stata molto carina Devo dire La prima stagione Vi ricordate la bambina Che faceva un po' Di provincia barra mare Nota in realtà Nota in realtà animata Non nel senso che faccio partire Un'animazione Ma nel senso Perché hanno fatto uscire Le prime immagini Di Della nuova stagione A distanza di miliardi di anni Di Master of the Universe Vale a dire di Iman Amici Vale a dire di Iman Fanno una nuova serie animata Che coinvolge gente Non da poco Perché Sarà diretta da Kenny Smith Insomma Kenny Smith Penso che conosciate Insomma Regista di Clerks All'inizio della sua carriera E poi insomma Di tante altre cose E poi Grandissimo nerdone Clamoroso Quindi figurati Se questa roba qui Non l'ho appassionata da matti Ma poi c'è un cast di voci Veramente Veramente importante E qui tra l'altro c'è Vi ricordate che Quando guardavamo Iman Non c'era alcuna differenza Nell'estetica di Adam E di Iman Quando si trasformava Cioè L'ennesimo caso Alla Sailor Moon Alla Superman Cioè Uguale Invece qui Sembrerebbe che Iman Nella versione Adam Sia effettivamente Meno pompato Di Iman Quando poi si carica Di brutto E questa cosa sarebbe Effettivamente Una cosa abbastanza Moderna Finalmente E nel cast C'è gente Tip Si chiama Master of the Universe Revelation Questa nuova serie E c'è Sarah Michelle Gellar Ragazzi È il suo The Good Place È in realtà Masters of the Universe C'è Alicia Silverstone Che insomma Il suo periodo di massimo splendore Forse è un po' passato A livello cinematografico Mai È sempre Alicia Silverstone E C'è Justin Long C'è La figlia di Kevin Smith Harley Quinn Smith Che tra l'altro Sta facendo Cruel Summer In questo periodo qua Che continua ad essere Una serie molto caruccia Ma soprattutto Nei panni di Skeletor C'è Mark Hamill Vare a dire Luke Skywalker Che Sappiamo che lui Come doppiatore Ha ormai una lunghissima carriera E che negli Stati Uniti In realtà Da un punto Da quel punto di vista Da molti bambini È conosciuto soprattutto Come il doppiatore Del Joker Dei film Dei cartoni animati Con Batman Insomma Tutti quelli Della DC E quindi farà Skeletor Che in originale Ha una E forse anche in italiano Non mi ricordo più Aveva una voce Che effettivamente Mark Hamill faceva Anche per il Joker E quindi io Da piccolo Me lo guardavo sempre Non credo di potermi Appassionare tantissimo Alla nuova serie animata Di Masters of the Universe Anche perché non credo Cambi il target Quindi credo che rimarrà Una cosa comunque A target un po' Bambinesco Però Due puntatelle Le vediamo Due puntatelle Le vediamo Perché sicuramente Rivedere alcuni momenti Rivisitati Sarebbe Sarà assolutamente Interessante Leggo i vostri ultimi messaggi Che poi devo andare A giocare A FIFA Voglio andare a giocare A FIFA Oddio È sparito Tutto È sparito Tutto Come sempre Qualcuno citava Meteo McConaughey Come dimagrimento E Varax dice Ma Meteo McConaughey Quando è che era dimagrito? Per Dallas Buyers Club Era diventato Dove interpretava Un uomo Che a un certo punto Era malato Di EDS E era veramente Diventato una ciughina E poi in realtà Quella ciughina lì L'abbiamo vista Anche in True Detective Cioè in True Detective Lui era già molto dimagrito Rispetto al Al Matthew McConaughey Che faceva i film In cui faceva il figaccione Bellone Romanticone Ed era dimagrito Molto Per Dallas Buyers Club E poi si era visto Anche in True Detective E poi era Re-ingrassato Tra l'altro Poi per fare altre cose Ah poi Vi eravate anche risposti Vabbè ho risposto Per chi Eventualmente Non guardava Non stava guardando I commenti Robit Io non ho visto The Great Tanto grave Non c'è mai niente Di grave Quindi adesso Diciamoci la verità Però The Great È una serie Molto Molto Carina Molto Molto Simpatica Leggerissima Che ti guardi Con estrema facilità E quindi Non è grave Ma è così facile Recuperarla Che c'è solo una stagione Per adesso Che non vedo Perché Perché Non dovresti Ecco Mario Pò Dice Nino D'Angelo Con la spada Facciamolo rivedere Adesso però Questa immagine Questa idea Che lui a un certo punto Possa mettersi a cantare Mamma mia Robby dice Udio non mi fate parlare Di questa cosa Di rifare i cartoni vecchi Che mi parte la reprimenda E va bene Va bene È un po' un problema Alla base Ma quindi Ha i muscoli gonfiabili No Ha i muscoli magici Santidio Questo tira sulla spada Si trasforma in E-Man Gli crescono i muscoli Mi sembra una roba ragionevole No Cioè non è un supereroe Che si mette un costume Cioè c'è di mezzo Un incantesimo Quindi secondo me Ci sta Dai Chiara dice Ma non è che sono proprio esaltata Da questa cosa Si parla di E-Man Va bene È legittimo Che tu Non ti Esalti Eccessivamente Serial Mines Ti scriverò Quello che tu non hai colto Forse boh Forse sono io che esagero Ormai non ho nessuna idea Di cosa si stia parlando Quindi vedi un po' tu Vedi un po' tu Ah Kind of Spark Non seguiva E-Man No Vedi E-Man All'epoca Faceva ridere per quello Perché c'era un momento Di trasformazione Ma in questo momento Di trasformazione Effettivamente Il tizio sembrava Che cambiasse solo i vestiti E si abbronzava un po' Nella versione non trasformata Era bianchiccio E poi si trasformava Però faceva ridere Perché nessuno lo riconosceva No? Come Super Pippo Come tutta quella gente lì Appunto Sailor Moon Eccetera Quindi ci sta che adesso Si pompi un po' Dai Ehm No Chiara dice questa cosa Triste Ma no triste Bella perché È il suo ultimo Forse lockdown Ehm Eh sì Lockdown in diretta Il suo ultimo Le show in diretta Perché poi però Ricomincia a lavorare Come si deve Quindi Brava Chiara Siamo tutti con te Viva Poi un giorno Verrai qui portando i dolcetti E faremo un leccio insieme Mangiando i dolcetti Che bellissimo Comunque Comunque vabbè Poi torna E facci sapere Scrivimi Così io poi porto La tua Come si dice Le tue esperienze Le tue testimonianze Al gruppo Dice Martina Io ho messo Un post Un post Sullo schermo Per segnami Tutte le serie Che consigliate Non avete idea Di quante ne escano Ogni puntata Mi rendo conto E alle volte Parlando Mi rendo conto Di veramente La vita spesa Dietro a questa roba qui Cioè La quantità di robe Viste È assolutamente Fuori di testa Ehm Eh raga Dice Chiara Dipende se facciamo Il servizio della sera O no E i dessert Sono sempre Alla fine Questa mi sembra Una frase Da mettersi Una maglietta Tutto sommato Ehm Qua chiedevano Un recap A Martina Iabi Ma non so più Di cosa Va bene Dai Comunque siamo In chiusura Anzi Sono le 23 33 ragazzi Ma quanto Sono un'ora e 13 Vi siamo connessi a sta roba Dai Piantiamola lì Piantiamola lì Come sempre Vi ringrazio molto Per la Per la compagnia Ci vediamo Lunedì Con tante nuove cose Io inizio un weekend In cui ragazzi Ho un bisogno Di rilassarmi Che è completamente Fuori dal comune Quindi Ciao Qua rimane acceso Come al solito Per un pochino Mentre carico i vari file E ci vediamo lunedì Con il villa Se no lo corco di mazzate